6 settembre 1883 nasce Pietro Loro Piana figlio di Giacomo e di Clementina Zignone insieme ai genitori si trasferisce ancora giovane dalla Natia Trivero in Valsesia. Strenuo sostenitore dell'eccellenza e della ricerca costante per ottenerla applica lo sviluppo ingegneristico al processo produttivo e nel 1924 fonda la società Loro Piana S.p.A., colosso della moda italiana noto in particolare per i capi in Kashmir. Sei generazioni dai primi dell'Ottocento hanno custodito e sviluppato un marchio nato con il commercio della drapperia di lana. Nel dopoguerra l'azienda si impone sui mercati internazionali con prodotti esclusivi di filati fini tra cui appunto il Kashmir fino ad allora poco usato in alta moda. Il gruppo internazionale Loro Piana diventa in pochi decenni il più grande acquirente delle lane più pregiate al mondo. La sede principale è tuttora il lanificio di Cuarona. La distribuzione capillare è garantita da 2200 dipendenti in 150 città del mondo.